E' stata una competizione che ha visto impegnati molti comuni italiani e il riconoscimento da parte del Ministero è stato sicuramente un risultato importante che ha premiato ovviamente la qualità del progetto ma anche la città. Con il progetto Giovani On Life Napoli che promuove l'idea di una città inclusiva e a misura di ragazzi Napoli si è aggiudicata il premio Città Italiana dei Giovani 2023. E' il risultato di un lavoro che l'assessore alle politiche giovanili Chiara Marciani ha realizzato con l'osservatorio giovani del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II e nasce dalla volontà del Comune di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita pubblica della città. Siamo molto contenti di questo premio che valorizza il lavoro che abbiamo iniziato con l'approvazione in consiglio comunale dello statuto e il forum dei giovani e che vuole portarci a realizzare tutta una serie di progetti per i giovani non solo negli spazi fisici che devono essere a disposizione di tutti i ragazzi e delle ragazze come i centri giovanili ma con tutta una serie di attività per valorizzare il talento per fare in modo che ci possano essere nella nostra città delle reali opportunità. Integrando in modo strutturato e dinamico spazi fisici e digitali il progetto prevede una rete di partecipazione sul territorio in cui i centri giovanili siano luoghi di crescita e condivisione. L'obiettivo è costruire un tavolo permanente di confronto tra i giovani e l'amministrazione articolato su quattro linee di intervento, cultura e creatività, legalità e movida, ambiente e spazi pubblici, competenze e lavoro. Un modo per stimolare le loro potenzialità e gettare le basi per lo sviluppo di un attivismo civico e politico duraturo. Alcuni attivi ufficiali che stiamo mettendo in piedi sono stati anche quello dell'approvazione del forum dei giovani appena passato in consiglio comunale, perciò stiamo avviando tutto un percorso di crescita da parte dell'aspetto giovanile e di partecipazione a quello che è la vita amministrativa della città di Napoli. Giovani on Life Napoli si concluderà con un evento pubblico nell'ambito della rassegna annuale giugno giovani. Ci tenevamo molto a fare in modo che questo progetto fosse dedicato a Giuseppe Sbrescia, che non solo è stato un collaboratore dell'assessorato ai giovani, ma con tanta passione, con tanto impegno, portava avanti tutta una serie di progetti e di attività per i giovani. Aveva materialmente anche collaborato alla scrittura e alla relazione del progetto che poi ci è valso il premio. Siamo felici e siamo orgogliosi di poter dedicare questo progetto a Giuseppe che è nel nostro cuore, quindi volevamo ricordare anche in questo modo. Il premio Città Italiana dei Giovani 2023 è promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani con il Dipartimento delle Politiche Giovanili, il Servizio Civile Universale e l'Agenzia Nazionale dei Giovani.